Torna l'incubo delle chiusure e delle restrizioni in Cina dopo l'aumento dei contagi degli ultimi giorni. Shanghai, dal 28 marzo del lockdown, nella capitale tecnologica cinese, si registrano 13.000 casi di contagio e nei social media scoppiano le proteste. Ci sono casi di bambini piccoli separati dai genitori e difficoltà di approvvigionamento alimentare per milioni di famiglie confinate in casa. Per tentare di arginare la diffusione della variante Omicron, le autorità hanno annunciato misure restrittive a giorni alterni per 26 milioni di persone. Oltre a questi provvedimenti, in cui sono stati sospesi pressoché tutti i servizi, trasporto pubblico compreso, sono arrivati nella città cinese quasi 48.000 operatori sanitari da tutto il paese insieme a circa 2.000 soldati. L'obiettivo è di effettuare un programma di test a cui sottoporre l'intera area metropolitana. Intanto la situazione nel mondo fa dire all'Organizzazione Mondiale della Sanità che se alcuni paesi sono stati in grado di compiere reali progressi contro la malattia, molti ancora continuano a far fronte a focolai significativi. L'emergere di Omicron verso la fine del 2021 ha innescato un'ondata di trasmissione globale i cui impatti si fanno ancora sentire. Intanto ieri in Italia i nuovi contagi sono stati 30.630, 125 decessi con un tasso di positività che sale al 15%. Grazie.